10 e 10, Mose è sollevato, possiamo vedere che la marea la distrilla. In questo momento sono 70 cm di dislivello tra il mare fuori, passiamo a Malamoco e dentro la laguna. Adesso aspettiamo altre due ore di apporto, che a noi risulta un picco adesso. In questo momento fino a mezzogiorno dobbiamo tirare il vento di scirocco, però la differenza è evidente. Mose è stabile, restiamo in attesa, siamo fiduciosi, però per il momento siamo soddisfatti. Noi crociamo le dita. Buon test e veramente una buona serie di dati utili per la messa a punto definitiva. Grazie a tutti. Grazie a tutti.